Oggi voglio fare solo un ragionamento insieme, come puoi interagire con me scrivendo i commenti qui sotto in modo che possa io in qualche modo risponderti alcune riflessioni, alcuni punti di domanda che secondo me possono essere utili perché sono stati utili per me. La prima riflessione è qual è la motivazione per cui vuoi imparare inglese? La mia motivazione per cui io volevo imparare inglese era quella di poter comunicare. Mi ricordo benissimo che ero in una cena a casa mia con i miei genitori, mia sorella e alcuni amici stranieri. Si chiacchierava, si rideva, si scherzava tra chi traduceva e chi non traduceva, alla fine andava tutto bene. Ma ad un certo punto queste persone volevano parlare con me e io non potevo rispondere, anzi, potevo solo fare. E questa cosa mi ha creato un tale disagio interno, quindi una sensazione così negativa che dal giorno dopo decisi che imparare inglese sarebbe stata la mia missione numero uno. Ovvio questa non era proprio una motivazione positiva, tanto era il disagio che volevo uscire da questo disagio imparando inglese. Nel futuro le mie motivazioni sono cambiate perché si è trasformata in quella persona che volevo conoscere, si è trasformata in quel film che volevo vedere, si è trasformata in quel lavoro che volevo fare o si è trasformata in quel viaggio che volevo fare da solo e senza l'inglese non se ne è andata da nessuna parte. Però queste motivazioni sono sempre state molto fluttuanti, ovvero a seconda dell'obiettivo che avessi avuto davanti, la mia motivazione cambiava. Oggi voglio fare quel lavoro, imparo inglese perché voglio fare quel lavoro, voglio fare quel viaggio, imparo inglese perché voglio fare quel viaggio, sono frustrato perché non riesco a comunicare in inglese, voglio imparare inglese perché sono frustrato, eccetera, eccetera. Dopo quasi vent'anni da quella cena che mi ha fatto fare il click, posso usare l'inglese oggi come è la mia lingua madre italiana, anzi, a volte parlare inglese mi rilassa perché è proprio un altro mindset, cioè parlo italiano, sono identificato con l'Italia, parlo inglese, sono identificato con un altro me, come fossi un attore che recita una parte. Quindi mentre parlo inglese sono più leggero, più tranquillo, più rilassato, più internazionale e più aperto di mente. Ma questa è una cosa mia, non devi essere per forza psicopatico per imparare inglese bene come me. Però aiuta. Cosa voglio dire? Che alla fine, se io vado indietro, noto che tutto è stato variabile. In 17-18 anni di lavoro e di studio le motivazioni sono state tante, quindi ho fatto un ragionamento, ho detto, ok, togliamo tutte le motivazioni e piuttosto che trovare la motivazione giusta, quella vera, provo a trovare cosa avevano in comune tutte queste motivazioni. Cosa c'era dietro a tutte queste cose? Che mi portava e che mi ha portato oggi e che mi porta ancora oggi a poter parlare inglese, a poter conoscere l'inglese per farlo entrare dentro di me è come un alleato, perché mi ha aperto un mondo, mi ha dato la possibilità di conoscere, di viaggiare, di aprire la mente, di guarire, di meravigliare, di meravigliarmi. A me personalmente l'inglese ha salvato la vita, te lo posso dire con garanzia. Oggi sto facendo questo video, per me è un lavoro, ma soprattutto e prima di questo per me è proprio un divertimento, mi sto proprio divertendo facendo questo video, cambiando le angolazioni, mettendo le luci, provando l'audio e facendo il taglia, copia e incolla con il video editing. Quindi se vado a vedere cosa c'è in comune, più che in comune qual è la cosa di sottofondo che mi ha sempre tenuto sulla strada giusta per imparare inglese, on the path, ed essere sempre stato disposto a pagare il prezzo. A parte il corso per insegnare inglese a livello internazionale riconosciuto e a parte la laurea, l'interprete e il traduttore, tutto il resto è autodidatta. Ho imparato l'inglese da autodidatta, ho fatto alcuni corsi in Irlanda, ma diciamo sono irrilevanti rispetto ai 17 anni di studio da autodidatta e quello che noto è quando facevo i corsi non guardavo in faccia il costo perché imparare inglese sarebbe stata un'altra vita, quindi quanto valore ha cambiare vita? Infinito. La seconda cosa è il prezzo da pagare, ovvero le esperienze che ho dovuto fare per imparare inglese, ovvero andare in Inghilterra il primo anno a lavorare, ho fatto l'autista di minibus lavorando 12-15 ore al giorno on call, vuol dire che oltre quelle 12-15 ore a chiamata quando mi chiamavano io mi alzavo e dovevo andare a portare le persone all'aeroporto prendere i studenti, portare i teachers a destra e a sinistra, dentro Londra non ti dico quello che era con un furgone da 17 posti che in Inghilterra posso guidare con la mia patente italiana in Italia, massimo 7 posti, anche solo questa cosa, già è un'esperienza. Sono stato disposto a pagare il prezzo, ovvero a mettermi in prima linea perché guidare un furgone a 17 posti a Londra con le rotatorie al contrario e ti assicuro che quando prendi una rotatoria al verso opposto e tutte le macchine ti vengono addosso il panico arriva. Ma questo non mi ha fermato mai, ho detto ok, questo è il prezzo da pagare, lo pago per imparare inglese e tutte le frustrazioni, le frustrazioni sono state, credo, la parte più importante e più costante per i primi anni. Poi quando ho capito anche che le frustrazioni mi erano amiche le ho lasciate andare e è iniziato a diventare il divertimento, cioè una gaffe diventava l'occasione di farsi una grandissima risata. Perché alla fine quando sbagli, che succede? Fai la figuraccia e quindi in inglese la figuraccia non esiste e non c'è nessun problema. L'unica cosa per cui io prendo in giro a volte i miei studenti c'è solo per farti ricordare quella certa parola, quella certa pronuncia, ma non perché la figuraccia sia di per sé importante. Quindi tornando al nocciolo della questione, l'essenza di tutto il mio successo a livello inglese è essere disposto a pagare il prezzo. Il prezzo di studiare tutti i giorni, il prezzo di trasformare la mia vita in inglese, il prezzo di iniziare a guardare i film in inglese anche e soprattutto quando non li capivo, il prezzo di osare a buttarsi e contattare qualcuno su internet per semplicemente fare un po' di conversazione, il prezzo di ospitare persone con couch surfing dentro casa mia sconosciuti rischiando tutto quello che c'è da rischiare perché la paura la fa la padrona, questo sarà un criminale, un terrorista o Dio che è, ospitare queste persone e parlare inglese. Andare a lavorare all'estero anche due settimane, andare a fare il volontario due settimane durante le vacanze, un mese di aspettativa da lavoro per andare a fare un corso in Inghilterra anche se hai 40 anni. Se sei disposto a pagare il prezzo, ciò che ottieni è di gran lunga superiore al prezzo che hai pagato. Gli audaci vengono sempre premiati. Quello che mi piacerebbe in questo video è ascoltare e ricevere alcuni commenti da parte tua, magari i tuoi aneddoti, le tue piccole storie di successo o di insuccesso, le tue figuracce o altre modi, altre tecniche e altre soluzioni per avere successo nel parlare inglese. Perché questa che ti ho raccontato io, mia, del essere disposto a pagare il prezzo è una delle centinaia di migliaia di miliardi di striliardi di soluzioni creative in questo mondo. Ti ringrazio per avermi ascoltato. Al prossimo video. See you on the other side. Grazie a tutti.